Buonasera a tutti ragazzi e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 9 novembre 2021, Bitcoin aggiorna nuovamente il suo precedente massimo storico, questa mattina arriviamo sopra i 68.000 dollari, siamo in questo momento scesi leggermente, siamo in zona 66.700 dollari, proprio in questo momento. Ragazzi oggi guardiamo come Bitcoin arriva a questo nuovo massimo storico, qual è l'interesse e l'euforia che c'è in questo momento sul mercato, quanto spazio ha ancora Bitcoin per crescere guardando e confrontando alcuni indicatori, poi ragazzi utilizziamo il grafico della market cap complessiva del mondo delle crypto per andare a ipotizzare dove sarà il top del ciclo. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi iniziamo a guardare questo grafico che rappresenta la quantità di persone che cercano su Google, il principale motore di ricerca, la parola Bitcoin. Questo indicatore va a segnalare qual è la quantità di persone, direi forse investitori un po' dell'ultimo minuto che sentendo nominare Bitcoin spesso a seguito di nuovi massimi storici entrano nel mercato forse un po' all'ultimo minuto presi dalla FOMO, quindi la fear of missing out. E solitamente questo indicatore è affidabile nel individuare quando siamo nel momento in cui c'è il massimo interesse da parte degli investitori dell'ultimo minuto. Come vedete ragazzi qua nel 2017 quando Bitcoin stava a 19.500 dollari, questo indicatore ha raggiunto un livello di 100, cioè il massimo assoluto interesse che c'è stato in quel momento per la parola Bitcoin su Google. In questo momento ragazzi come vedete nonostante Bitcoin abbia oggi un prezzo più di tre volte superiore rispetto a dicembre 2017 il livello di ricerche è ancora molto basso. Siamo ad un livello di 45 all'incirca, anzi scusate 30, mentre pensate che quando Bitcoin si trova a 64.000, quindi qualche mese fa, il livello di ricerche era di 74.000. Quindi stesso livello prezzi oggi rispetto a qualche mese fa, a maggio scorso, e un livello di interesse, un livello di hype verso gli investitori un po' dell'ultimo minuto decisamente molto basso. Quindi è un ottimo segnale sulle potenzialità che ha Bitcoin ancora per andare a crescere nelle settimane e nei mesi successivi. Quindi monitoriamo insieme e credo che quando questo livello raggiungerà di nuovo il livello dei 100, probabilmente avremo un'ulteriore conferma che siamo al top del ciclo. Ragazzi guardiamo un po' insieme questo indicatore, lo trovate su checkonchain.com, tutte chart gratuite. Questo indicatore l'abbiamo già approfondito insieme, si chiama Meyer Multiple. Qua è rappresentato anche tramite delle bande. Che cos'è il Meyer Multiple? È la distanza che c'è tra il prezzo di Bitcoin oggi e la media dei 200 giorni. Come funziona questo indicatore? Quando il prezzo si distanzia verso l'alto dalla media mobile dei 200 giorni, si distanzia in maniera eccessiva da un segnale di vendita. Così è stato per esempio a fine 2017, durante il picco del bull market e due volte nel 2013, quindi quando la distanza tra il prezzo e la media mobile dei 200 giorni diventa eccessiva, ovviamente è un momento opportuno per andare a prendere profitti. Invece ragazzi, quando il prezzo è sotto la media mobile, tendenzialmente siamo in un momento di opportunità di acquisto, direi nel medio-lungo termine, che risulta essere un buon momento per investire, quindi un buon rapporto rischio-rendimento. E in questo momento ragazzi, vedete qui che nonostante in questo momento Bitcoin sia a 66.000 dollari, quindi un livello praticamente equivalente a quello di aprile scorso, la distanza con la media mobile dei 200 giorni si è decisamente ridotta. Quindi siamo ancora molto vicini alla media mobile e quindi potenzialmente c'è ancora molto spazio per Bitcoin per esprimersi verso l'alto. Quindi guardiamo insieme questo indicatore quando eventualmente darà un segnale di sell o addirittura strong sell. Poi ragazzi, questo indicatore è molto simile a quello precedente, questa invece è la distanza che c'è tra il prezzo e la media mobile invece delle 200 settimane, mentre è capitato e capita spesso che Bitcoin scenda sotto i 200 giorni, non è mai capitato che il prezzo andasse sotto le 200 settimane. Quindi questo è un po' il bottom ultimo del bear market di Bitcoin. Quindi se Bitcoin dovesse andare sotto questo livello ci sarebbe da preoccuparsi. Quindi gli investitori sanno che questo livello è da difendere e spesso si ottengono i migliori investimenti in termini di rapporto rischio-rendimento. E qui ragazzi, guardate qui come la media mobile delle 200 settimane sia salita addirittura a 17.000 dollari. Quindi l'ultimo bottom per Bitcoin sono i 17.000 dollari. E in questo momento i pallini che rappresentano anche qua la distanza tra il prezzo e questa media mobile sono azzuri, quindi siamo ancora relativamente vicini alla media mobile. Quindi anche qui mostra che c'è spazio per questo bull market ancora per esprimersi a rialzo nei prossimi mesi. E non siamo sulla base di questi indicatori minimamente vicino a un top del ciclo. Ragazzi, guardiamo poi questo grafico. Siamo su Bitcoin, Bitstamp timeframe settimanale. Guardavamo ragazzi insieme qualche giorno fa che utilizzando le estensioni di Fibonacci c'è un'interessante ricorrenza nel prezzo tra il livello di estensione 2.27. Quindi ragazzi, se facciamo dal massimo 17 al bottom 18 abbiamo visto che il prezzo va a finire intorno a luglio su livello 1.27 e poi il top del ciclo tendenzialmente a dicembre a livello 2.27 che si trova in prossimità dei 200.000 dollari. Quindi avevamo ipotizzato una possibilità di un top del ciclo addirittura a fine anno, quindi dicembre e gennaio, intorno ai 2.27, quindi 200.000 dollari. È chiaro che risulta oggi particolarmente impressionante, ma Bitcoin è proprio nella fase finale che fa i movimenti più estremi, generando l'hype che poi si riversa nelle ricerche su Google. Quando Bitcoin veramente cresce a doppia cifra sostanzialmente tutti i giorni per settimane consecutive. Quindi in questo momento ragazzi dicevamo 2.27, possibile top sulla base di questo indicatore a 200k a dicembre e se utilizziamo lo stesso metodo, questa ragazzi è il grafico invece che rappresenta la total market cap, quindi la capitalizzazione totale del mondo cripto, e facciamo lo stesso tipo di calcolo, vediamo che una capitalizzazione globale potrebbe raggiungere il suo top, vedete come anche qui l'1.27 è stato rispettato a luglio, il top potrebbe essere intorno ai 10 trillion di market cap, quindi all'incirca un per 4 di total market cap rispetto a quello che vediamo oggi nel mondo cripto, quindi intorno ai 10-11 trillion di market cap, se consideriamo sia Bitcoin che anche la market cap di tutte le altcoin. Vi ricordo che ragazzi l'ultima volta che c'è stato il picco per la market cap era il primo gennaio 2018, vi ricordo che Bitcoin ha fatto il suo massimo all'incirca metà dicembre e quindi successivamente il picco della market cap è stato raggiunto due settimane dopo a confermare che le altcoin nella maggior parte dei casi fanno il loro massimo storico in media due settimane dopo il picco di Bitcoin. Quindi ragazzi per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate e ragazzi grazie per il vostro supporto nel video di ieri, credo che abbiamo fatto assolutamente il record di like, quindi grazie per il supporto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!